Buongiorno a tutto il gruppo Trekking Mania, oggi siamo un fotogruppo, siamo partiti da Campiglia e siamo scesi al paesino di Schiara dove stiamo lasciando il tratto da Campiglia tutto in discesa e ora ci toccherà una scalinata di credo 2000 scalini che ci riporterà quasi a Campiglia, Trekking Mania, eccolo qua Andrea, questa è Schiara perché da qua si vanno questi scalini se potessero raccontare... ... ... ... Ora poche panorama ... 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 oggi ne abbiamo 15 si 15 aprile a presto Eccoci, siamo a Monastero lì e stiamo risalendo, questo è il prato finale della scalinata che porta alle ultime case, un po' schiara eccoci. Silenzio più assoluto, siamo nel parco delle Cinque Terre, in fondo qua vediamo il Tino, il Tinetto e la Palmaria e dietro c'è la città di La Spezia con il suo golfo. E da quest'altra parte, dietro a quei promontori, il primo paese delle Cinque Terre, Rio Maggiore. E parto, il resto del gruppo è tutto davanti. Davanti, batteria scarica e piano piano dobbiamo farla. Sono scalini alti, minimo 30-40 centimetri. Grazie. 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 All'orizzonte, cinque minuti fa ci sono passati un gruppo di delfini. Sì, se guardate il mare. Esatto, ci sono i delfini ancora. Li hai già visti prima. Ora con la action camera non si notano perché sono un po' lontani. e quindi una parecchia lavanda meno di vento. Ora sono sotto. Bene, comunque ci sono questi delfini nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Prosseguo. Guardate questo scorcio di questa casa. Quindi tanto c'è da rifiatare. Oltre mille scalini per arrivare al bivio. e altri tanti li abbiamo fatti per scendere giù a Schiara che rimane oltre quel promontorio. Sì. 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 Il video. Che bello. Com'è ragazzi? L'ho visti? Bellissimi. Sì. 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 Sembra la piramide di Cicciniza in Messico? Sì. E' vero? è un spettacolo è la parte più bella bedo, dove stai? c'è in questo caso arriva che devo fare una foto forse forse Mamma!